Ehi, come stai? Stai aspettando da tanto? Ho cercato di sbrigarmi, ma ci ho messo il tempo che ci ho messo, insomma. Mi dispiace averti fatto aspettare. Come stai però in generale? Ok, quindi sei venuto o venuta qui per una giacca, una maglietta, un pantalone, una camicia. Dimmi tu, cosa ti serve in realtà? Una giacca? Ok, va bene. Adesso però ti farò qualche altra domanda. Prima di tutto, prima di prenderti le misure, soprattutto, voglio indossare questi guanti appunto perché ti dovrò comunque toccare sul corpo in generale per prendere le misure. Non che ho le mani sporche, assolutamente, però è meglio se indosso dei guanti. Ok, quasi fatto. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Hai caldo o freddo? Non te l'ho chiesto. Io ho un po' caldo, però non importa. Allora tu quindi mi hai detto, mi hai detto che ti serve una giacca. Perfetto. Ma prima di iniziare col lavoro volevo chiederti innanzitutto come ti chiamavi. Perfetto. Ok, esatto. Poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Posso sapere qual è l'occasione per cui indosserai questa giacca? Ecco. Così che inizio un po' a capire il mood di come la vuoi. Ah, un'ottima, un'ottima occasione. Bisogna quindi essere super eleganti. Esatto. Va bene. Va bene. Hai qualche design in mente? Qualche modello a cui ti sei ispirato o ispirata per decidere che vuoi quella determinata giacca piuttosto che un'altra? No, vado un po'. Ci penso un po' io. Va bene, va bene. Non ti preoccupare tanto. È il mio lavoro. Sì, io adoro il mio lavoro. Lo trovo super, super, super rilassante. Cioè, pensiamo anche soltanto a questi quanti. Ma non sono stupendo. Adesso devo iniziare con le misure. Sì, e ho qui per l'occasione ben due metri. Il primo che utilizzerò, che è appunto il classico, si chiama metro da sarta, nel quale prenderò la maggior parte delle misure e poi userò un metro, quello normale, per prenderne altre. Allora, io quindi inizierei con la lunghezza delle spalle. Iniziamo, prendiamo per di qua. Ok. Un po' di centimetri. E lo mettiamo poi anche di qua. Quindi. Uno, due, tre, 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 tre. Ok. Ok. Hai appunto le spalle molto molto simmetriche. È un complimento, eh. Adesso vedrò le braccia, la lunghezza delle braccia. Parto prima ovviamente dalla destra, di qua, metto qui l'inizio e scendo giù. E le braccia molto lunghe insomma. Stessa cosa la facciamo di qua. Ok, fammi però scrivere tutte queste misure perché sennò... Ok, innanzitutto se a te per caso serve qualcosa, anche un po' d'acqua, dimmelo eh, te la vado a prendere. Ok, adesso volevo un attimino misurare lo scollo, la parte quindi questa, volevo un attimino vedere quello. Ok, guardiamo. Allora, da un lato è così, più che altro così, ecco. Dall'altro è così. Ok, uno scollo più che normale. Adesso, altre misurazioni che devo fare. La lunghezza, quindi dalle spalle fino alla cintura insomma. Qui basta che la faccio su un unico lato, quindi mi metto per esempio di qua e scendo giù, scendo giù. Ok, la lunghezza è abbastanza standard. Perfetto, perfetto. Sì, ti stai chiedendo perché ho un po' di barba qui, mi sono dimenticato di farla. Di solito non la porto, però mi sono proprio dimenticato perché ieri è stato un giorno terribile. Ti giuro, ieri sono stato malissimo. Speriamo oggi di stare meglio. Cioè, per adesso sto abbastanza bene. Speriamo che migliorerà soltanto. Sì, eh, capita. Avrò preso, sarà un po' la stanchezza, magari ho preso anche freddo. Vedremo. La cosa è che quando io mi ammalo, a me prende sempre lo stomaco. Lo stomaco. Sempre, 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 sempre lo stomaco. Non ci posso fare nulla. Eh sì. Ok, adesso, prossima misura che voglio prendere è la tua vita. Perciò inizierò ad attorgiare questa dietro. Un po' così, attorgiamo. Che l'ho abbastanza di potenza. Tutto da tre. Ok. Ok, ok. Aspetta, fammi posare questo metro qui che adesso non lo utilizziamo più. Lo poso qui. Ok, ho preso tutte, tutte, tutte le due misure con il metro da sarda, quello classico, insomma, sì. Adesso ho qui quello, il metro quello per i lavori. Non saprei come descriverlo, il classico metro, però. Ha un suono molto metallico, questo. Non il mio preferito, però. E vorrei un attimino avere la conferma di alcune lunghezze. Per esempio quelle delle braccia. Sì. Più o meno la lunghezza è quella lì. Faccio anche l'altro braccio. Sì. Hai il braccio destro che è leggermente più lungo del sinistro. Leggermente proprio. Ma non è un problema. Non ti preoccupare. Ok. Ultima misura. Vorrei provare anche di qua. Che numero vedi? Il primo che vedi? Perfetto. Che numero vedi? Perfetto. Che numero vedi? Perfetto. Ok. Adesso che ho preso tutte le misure, dovrò farti altre domande. Anzi, più che altre domande dovremmo insieme scegliere il tessuto. Perché? Appunto tu mi hai detto che per questa occasione, qui è un'occasione molto importante in cui bisogna anche essere vestiti veramente eleganti. Io ti proporrei, innanzitutto mi devi dire il colore. Di che colore la vorresti? Perché? Potremmo fare la classica, nera, grigia, blu scuro, altre cose così. Ma in realtà ci sono tanti altri colori che secondo me sono veramente, veramente carini. Anche un mix di due colori. Devi dirmi un po' tu, se hai già pensato a qualcosa, ecco. Se avevi già pensato ai colori, oppure volevi qualcosa più di classico, la seconda, quindi un po' più classico, quindi vado per esempio sul nero, sul grigio scuro, in base, ok. E ultima cosa, appunto, vuoi un tessuto un po' più pesante o un po' più leggero? Quando accadrà questa occasione? Ok. Secondo me quindi un tessuto un po' più pesante serve? Sì. Perfetto. Ok. No, non ti preoccupare, non è un problema per me. Allora, visto che ho in realtà qualche altro ordine che mi è stato commissionato prima del tuo, non so quando effettivamente riuscirò a farlo, però... credo che nel giro di qui a due, tre settimane riceverai la tua giacca. Io al massimo ti chiamerò qualche volta, ti farò venire per provarla, perché... non si sa mai che ho sbagliato qualcosa, qualche misura, magari là dovevo fare qualche centimetro in più, perché ovviamente non lo sai mai, finché il tuo modello non la prova, ecco. Se mi lasci il numero, io posso poi contattarti appunto. Ok. Perfetto. Spero che questa esperienza ti sia piaciuta in generale, spero di non essere stato, come dire, troppo pesante con le domande. Piuttosto sei qualcosa tu da chiedermi su come funzionano le cose. Ok, in generale, quali saranno i passaggi per la costruzione di questa giacca? Prima di tutto prenderò il tessuto e disegnerò con uno strumento che lascia del colore bianco, disegnerò tutta la forma in base a tutte le misure che ho preso. Poi le ritaglierò, darò una prima cucitura in modo che restino uniti i pezzi. Poi ti chiamerò, te la farò provare, te la farò provare la giacca. Poi se tutto va bene inizio a foderarla e a cuocire in modo che non si vedano appunto le cuciture. Non è un processo difficile ma neanche semplice. Ma neanche neanche semplice, esatto. Tolgo i guanti allora. Perfetto. Le mani un po' asciutte. Quindi se non c'è altro da dirti io adesso ti auguro la buonanotte con un grande bacio. Buonanotte. 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 Grazie a tutti